Lo sport in collaborazione con Pegaso annuncia 40 giorni di offerte finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30% Pegaso a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita I nomi dei giocatori in partenza che il direttore sportivo dell'Alessandria Calcio Giuseppe Magalini avrebbe fatto sono quelli di Massimo Loviso Alex Sirori, Leonardo Terigi, Filippo Boniperti e Giuseppe Piccone Sono in larga parte questi giocatori che non rientrerebbero nel progetto del nuovo tecnico dell'Alessandria, Piero Braglia Quelli invece che dovrebbero rimanere in maglia grigia sono Adriano Mezzavilla Cristiano Sosa, Manuel Fischnaller Su quest'ultimo giocatore l'allenatore dei Grigi avrebbe deciso che l'alto artesino sarà utilissimo al progetto Alessandria e che intende collocarlo in un ruolo diverso da quello che gli aveva imposto mister Angelo Grigucci In settimana dovrebbe decidersi anche per Ferdinando Vito Francesco Il direttore sportivo dell'Alessandria ha poi escluso Moscardelli dalla lista dei probabili arrivi Con l'allenatore decideremo nei prossimi giorni sui due centrali di difesa un centrocampista e una punta Mister Braglia, concluso Magalini, tornerà a fine settimana e con lui affronteremo e valuteremo quali saranno i giocatori che copriranno il ruolo di esterni sia in difesa che in attacco Pegaso a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita Il meteo, in collaborazione con Immaginate di essere in una piscina con spiaggia ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo Piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche senza cemento armato, senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50% Punto Fuoco Le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03 Vi aspettiamo al Parc Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba Troverete un'incredibile multi-race foam a quattro corsie lo scivolo più veloce d'Europa una nuova laguna caraibica di ultima generazione con idromassaggi, solarium acquatico e un'isola bimbi con sette scivoli Per i più temerari Black Hole e Rapid River attrazioni per adulti e per bambini per un'estate all'insegna del divertimento e del relax Il Parc Acquatico Lavagello vi aspetta a Castelletto d'Orba